Un dato è certo, sarà dura per tutti, per i candidati a sindaco della città di Sciacca ma anche per gli aspiranti nuovi consiglieri. Con la nuova legge elettorale infatti il numero dei componenti del Consiglio Comunale scende da 30 a 24 e in realtà i posti disponibili sono 23 perché in Consiglio Comunale siederà automaticamente il miglior perdente tra i candidati a sindaco della città. Una novità auspicata da anni che verrà sperimentata dunque con le amministrative del 2017. Non è l'unica. Se in passato per essere eletti al primo turno era necessario che uno dei candidati a sindaco ottenesse il 50 più 1% dei consensi, ora la soglia si abbassa dal 40% ma sarà più difficile ottenere il premio di maggioranza in Consiglio Comunale. Potrebbe avere maggiori chance il candidato che è supportato da diverse liste, ciascuna delle quali però deve superare la soglia del 5%. Insomma non sarà facile neanche per gli aspiranti consiglieri ma intanto quasi tutti gli uscenti intendono riprovarci. Si prospettano al momento almeno 12 liste. Partiamo dal centro-destra che dovrebbe averne almeno 4. In quella dell'NCD dovrebbero esserci gli uscenti Giuseppe Midioti, Salvatore Alonge, Michele Alba e Anna Collica con un'unica eccezione quindi quella di Luigi Di Mino che dopo tanti anni pare voglia rinunciare alla candidatura. Altra lista quella di Progetto Sciacca. Indipendentemente da quella che sarà la decisione dell'attuale presidente del Consiglio su una sua eventuale candidatura al sindaco, anche in questo caso dovrebbero tentare la rielezione tutti gli uscenti, quindi Calogero Bono, Pasquale Bentivegna, Rosario Lombardo e Filippo Falotano, anche se quest'ultimo pare stia meditando più degli altri sul da farsi. Nonostante si attenda ancora una decisione ufficiale da parte del sindaco Fabrizio Di Paola, è scontato il supporto alla coalizione, chiunque sia il candidato sindaco, della lista che a lui ha fatto riferimento, ossia Sciacca al centro, che ad oggi è rappresentata dal consigliere Michelangelo Graffeo. In questa lista potrebbero candidarsi gli attuali assessori Salvatore Monte e Ignazio Bivona. Ci sarà anche la lista di Forza Italia, con la ricandidatura al Consiglio Comunale degli uscenti Vittorio Di Natale, Antonio Casciaro e Francesco Pisano, ma anche in questo caso sembra scontata la presenza degli assessori uscenti Silvio Caracappe e Maria Antonietta Testone o del fratello ex consigliere provinciale Nicola Testone. Cinque le liste che dovrebbero essere proposte dal centro-sinistra. Anche questa coalizione non ha ancora sciolto il nodo della candidatura al sindaco, ma partiti e movimenti lavorano incessantemente alle candidature al Consiglio Comunale. Nella lista del PD è certa la rinuncia del consigliere oscente Enzo Sabella. È indeciso l'ex parlamentare Vincenzo Marinello, mentre dovrebbero tentare la rielezione Simone Di Paola, Vincenzo Bonomo, Gioacchino Settecasi, Ignazio Catanzaro e Luciano Ogello. Tutti ricandidati, a meno di ripensamenti dell'ultima ora, i consiglieri uscenti di Sciacca Democratica, Filippo Bellanca, Cinzia Deliberto, Maurizio Grisafi, Giuseppe Ambrogio e Santo Ruffo. Ci sarà la lista che fa riferimento al consigliere oscente Paolo Mandracchia, nella quale dovrebbe candidarsi anche l'ex assessore Fabio Leonte. C'è poi la lista Sicilia Futura dei parlamentari Cascio e Cimino, nella quale dovrebbe essere ricandidata l'uscente Elvira Frigerio. Anche Lorenzo Maglienti dovrebbe riprovarci, pare in una delle liste del centrodestra, così come i consiglieri di patto per Sciacca, Mario Turturici e Salvatore Monteleone, che non hanno però ancora ufficializzato con chi schierarsi. Il movimento politico Mizzica pare debba presentarsi con almeno due liste di candidati al Consiglio Comunale, mentre è certo che i 5 Stelle punteranno tutto su una sola lista. Ci dovrebbero essere Nino Vitale, attivista della Prima Ora, Lorenzo Navarra, leader degli insegnanti in movimento, Mario Di Giovanna dell'altra Sciacca e Ivana Di Mino, della quale si parla anche come probabile candidata a Sinnaco.